Ciao a tutti ragazzi, io sono Coridan per Maledetti Dadi e vi faccio questo velocissimo video per farvi presente che il nostro negozio sponsor Gioco Libri di Asimola ha ancora in magazzino diverse scatole di scaven type, che sapete essere il nuovo set di base della nuova edizione di Warhammer e Age of Sigmar dove all'interno troverete di Stormcast Eternals e dall'altra parte di scaven. Ha ancora diverse scatole all'attivo che se volete ordinare potete farlo direttamente dal sito di cui trovate sempre, primo link in descrizione. E le suddette scatole sono scontate del 30%, quindi sempre, ora vedete in sovraimpressione il codice sconto discount da usare al momento dell'acquisto ma lo trovate anche in descrizione. Accorrete numerosi a comprarle perché oltre ad essere una scatola bellissima e ricca di contenuti è già fuori produzione quindi per i manuali di Spearhead che troverete all'interno e tutte le miniature che sono della scatola base di scaven type non le troverete più sul mercato. Questa secondo me è anche un'eccellente occasione per farsi un bellissimo regalo di Natale. Mi raccomando da Gioco Libri di Asimola. Ciao ragazzi!